Cazzo che bestia! Porca puttana! Porca puttana! E il team pegs c'è ragazzi! Era da mezz'ora che scodava la sotto i rovi! E siamo andati a scovarlo! Nel momento in cui l'ho agganciato si sono morsi altri tre siluri sempre la sotto! Come al solito ho appena spaccato la lenza con la EAPULES Ho dovuto utilizzare la 15-30 della Vega Shimano Non è eccessivamente grosso però siamo sui 15 kg Siamo! Questo è per Andrea Licari Si sente decisamente che il caldo di oggi è incattiviti rispetto alle ultime catture Noi! 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 Questa canna mi ha regalato le emozioni più grandi della mia vita guarda! Sì, non è un po' di più, non è un po' di più, non è un po' di più. Adesso utilizzata è il solito Tiger da 24. E' un po' di più, non è un po' di più, non è un po' di più. E' un po' di più. Eccolo qua, come potete vedere lo prendo sul fianco, era da 20 minuti che scodava sotto i rovi di là. Dopo ripetuti i lanci, l'ho agganciato. Nel momento in cui l'ho agganciato, si sono mosse altre tre siluri. E questo è il risultato di oggi. Siamo sui 15 kg, adesso prenderò le misure. Fermati. Siamo sul metro e venti, ragazzi, però vi assicuro che c'è una pancia davvero grossa. Ora, come sempre, catch and release, ragazzi. Mi ha dato una bellissima emozione. Andrò è un po' oxigenato. Grazie. 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 Grazie.